Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Chi è il prossimo? Benvenuti, benvenuti Siete pronti a mettervi alla prova con un gioco di velocità e resistenza? Molte sfide vi attendono lungo il percorso Il gioco è facile ma vincere è quasi impossibile Iniziate quando siete pronti Chi batte il tempo migliore dell'anno scorso sarà più vicino alla maschera d'oro Non lo so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.